Siamo a Cipoli, via Missoni, con il signor Angelo Di Pietro, barbiere che ha ideato un'iniziativa utile per le persone che hanno difficoltà economiche. Il signor Di Pietro ha la possibilità di poter tagliare i capelli e fare anche la barba. Come è nata questa iniziativa? È nata un periodo così brutto, da aiutare qualcuno che non ha la possibilità e di aiutarli per una volta al mese. Adesso lo abbiamo fatto ieri, facciamo il 22 febbraio e li facciamo un'altra volta ogni lunedì verso la fine del mese. Adesso abbiamo fatto per il 22 febbraio, faremo queste cose dalle 13 alle 19.30. Ci sono già delle prenotazioni? Adesso per il 22 no, perché oggi è 26, adesso per il prossimo a Moese. Quindi lei fa sia barba e sia capelli? È quello che avevano bisogno, possibilmente i capelli, però se c'è qualcuno ha barba facciamo anche la barba. Da quanti anni fa questo mestiere? Da molti, diciamo dal 1974. Grazie, complimenti per l'iniziativa. Prego, a lei.